Lo prendiamo in culo, si ragazzi, hashtag sotto la stream di youtube Hashtag mi piace prenderlo in culo Da doccan, specialiamo, anche se no Potrebbe essere frainteso Facciamo così Allora, cosa fare ragazzi, cosa fare? Beh, a parte bestemmiare è la base Adesso vi faccio vedere come si fa, beast, no item Perfect run, gg, epico, porco, gohan di merda In KK ho trovato gohan future in una singola Bello dead, si, io manco ci provo a pullare le singole, già so che fine faccio Allora, ragazzi, bro, ricci la di fase 1, ottimo Io sto bestemmiando su Trunks Ah, la blue zone, la come si chiama Semplice, dai L'unica cosa è che hai i try limitati al giorno Solo quella che è una cacata Non dico che credi che tutto deve fare tra di prendersi quella special Ma giustamente, eh, gohan ha massimizzato i danni, no? Special primo hit, mica il secondo, terzo, no, no Perché quando fa il mio beast a B2 con la target ha subito 68 Guarda, di base ti carica sui 4 milioni di special totale Perché si buffa le stats e poi ti troppa anche la def Quindi, e ti lancia due special a turno, quindi fai te Ciao patriota, salve Quanti due calcoli Io avrei dovuto venire su Build Q Carnival ci spesi 2 milioni di stanza senza trovare nemmeno una copia Una batosta clamorosa, eh, vabbè Ai tempi... Toccolando che era veramente sbroccato Però era un Carnival Pure io per trovarlo ci spesi un bel po' mi pare sul Global No, sul Global no, no Mi pare che sul Global ho trovato nei ticket No, vabbè, ce lo sta Gappa, gappa di curere il gogo Ho fatto di uno schifo clamoroso Era sul Jap mi pare che ho speso un po' Vabbè Ma ogni tanto, zii, lo shaft passa per tutti Poi ci sono persone che sono immuni Non so come fanno Probabilmente hanno qualche rito satanico Fanno Non teso di Sfruttiamo al 100% naturalmente il... Il change orb di Broly Eh... Proprio la base Mica è stato buttato Ma quando male? Domani c'è un travel? Sì, sì, domani è un viaggio verso la Madonna di Lurud Se qualcuno vuole venire, ragazzi Piacciamo bene lì, non so Sto sfigando ogni 3 La spedio dove non dovevi farla E mi sciotta Sto cane del futuro Eh, vabbè Se c'hai sfiga Prima o poi ti capiterà la run giusta Più poi che prima Capere se trege la run Hanno come amico mazzo Quindi non sciogli Sti cazzi devi settare la run Tanto la memory ormai l'ho usata Boh, se mi uccide bene Se no Vabbè, io perlomeno mi tengo fortunato Che almeno ho trovato Broly Inziché E tramite tipo Crea qualsiasi evento Però naturalmente Che ho visto, sai Mi carriero giusto un pochettino di più Allora Goku Pierini sempre primo Ma io lo metto primo Per evidenti motivi Per quanto riguarda Il buff delle stats Ma una special di piccolo Fa un pochettino male Un pochettino Forse non eccessivo È partita una host Il team di quando tiene dentro Tutte le unità dell'anniversario Sì ma Ma pure se Guarda pure se la lead Non dava un cazzo Cioè si buffava solo lui Era una lead solo per Gohan Beast Sti cazzi Comunque ci fai tutto Ho prezziato il gioco sul globo Quando esce per Cosa esce per San D? Non lavoro per Bandai Non ti posso rispondere Vado a runcare a dopo Se sei ancora on Chi ti ha dato il permesso Di andare a runcare Dopo quando sono trovato Broly È più di mille Non mi ricordo di preciso L'importante è averlo trovato Sti cazzi L'importante è che nel mio account Ho dovuto vendere un rene Per quanto riguarda Il farming È tutto però Io ci sto tutto in tutto E per tutta lo shaft Mi è già uscito sul jump No Esce in contemporanea Oddio Era la Golden Week O no Il Golden Week Ma il San D che è Non mi ricordo Comunque c'è sta Goku e Hildegard Che deve uscire Qualche celebrazione Non so quale Ci sono troppe celebrazioni Ragazzi È impossibile di coltare Vedi ragazzo Che non ci sarà il San D Cosa terremato Allora Com'è la situazione Non simpatica Sette orb Ma io godo Cazzo Però volevo Golden Int Inturnazione Mannaggia la troia Ho vinto Per curarmi un po' Ma mi sa Sti cazzi Con le Wicca Con le Wicca No ma Uno vede il Jump E si dice Ma perché Dovrei pullare Ma conviene Skippare Tutta la prima parte Dell'anniversario Per pullare su Gohan E poi se Dio vuole Tornare sulla prima parte Sì No non c'è senso O pulico le multifilli O skippo completamente Quel coglione Di mio figlio Gohan Purtroppo Ancora Ha i residui Di quando mi scopavo La madre Mentre era nella pancia Oh 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 Andrea succhiami Le pale coglione Viva le 2008 Io naturalmente Mi distorcio la Goku Ma assolutamente Eeeh Non lo conosco Eeeh No anzi Non ha senso Skippare il tutto Di base Pulli per Broly E poi massimo Te skippi con Jeda Per pullare su Beast Ah Broly A per il mio Non è da skipp Anzi Da avere 100-100 Piuttosto Di skippi con Jeda Riesca a trasformare Sto Goku Goku sei una nullità Porco cane Devo aspettare Un altro turno Ma che palle Però ma io lo trasformo Perché mi piace il cazzo No perché Sennò c'è muoio Vero quando dovrebbe uscire Una settimana prima Due settimane prime Di combiste Semplice Anzi Più semplice Così si muore Non potremmo non farlo Con la voce Ci sta bene Eh vabbè niente Devo compri tu l'account No Ti devi vendere il tuo account E poi compri l'account Per questo Ti vendi il tuo account Che adesso ti toccan E poi ti compri L'account Voi Tu devi fare pure la move Di prendere l'account Di ottenere 8 euro Pure su global Per me C'è una barata bella Con varie percentuali Mi ricordo solo che 700 stone Era un 92% Probabilmente di trovare una copia Sì sì ma ripeto Sulle 1000 Più o meno Non è garantito Però È la media Più o meno Tra un personale Dove essere 800-900 Sassman Escono letteralmente Tutti nello stesso mese Escono Ah mi è loccato Broly e Cirai Ma domate È proprio una sguadrina Vediamo se riesco a stare Sotto quegli HP Per Mio fratello Goku Piedini Ah 7 orgo Bastardi Naturalmente ragazzi Con Geta Non duggerò un pugno E saremo morti Ciao Fabio Buonasera Mi sento E torna Goku full power In teoria Sì Dovrebbe tornare Ma tanto ormai Sti cazzi È legale Non tra le compi Dove dicevo Normalissimo Caro Normale amministrazione È legalissimo Coministro Non trovi Il nuovo personaggio Puoi iniziare a lamentarti Sì Esattamente Io attualmente Non è che mi posso lamentare Più tanto Però Comunque Da free to play Ne sto risentendo parecchio Ok mi ha fatto la In realtà guarda Prezzo la special qui Però devo sperare No con Geta Dovrebbe tankare la posta È già bullato Assolutamente no Cioè sì Però Dovevo vedere i segni Di Twitch Dicevo No non bullare Lo faccio per te Anche se dubito Seriamente Butteranno fuori qualcosa A livello di combi No Boh Cioè Se sul global Ti fanno uscire qualcosa Più forte Di combi Prima dell'anniversario Marketing It's over 9000 Prove Dai che se riesco Attivare la Costa di Goku Godo tantissimo Anche perché torno Quando ricordo La 60% di HP Dico O full Mi ricordo male Sì vabbè Gogeta dovrebbe tankare I pugni Non credo faccio uscire Qualcosa di più forte O pari di livello Perché Non dovrebbero farlo uscire Tanto Una volta che è uscito Sull'anniversario Già zitta Adesso i personaggi Possono essere lutti Come lui Il power level Oramai quello è Sì Non ci credo Finalmente Sì ma vabbè Tanto gold Lo metterò da Vai Goku Piedini Haug Grande muro Mio fratello Goku Piedini E sdrongo Implodi Goku Fallo per noi Acuna matata Parvai che carico Troppo il Dokkan Infatti Non vi faccio Un paio di cazzi miei Vai Goku Piedini Sei tutti noi Sei Goku Piedini Che schifo Eh cazzo Mi riti frate Siamo implosi Ok Grazie per questo Incredibile change orb Io voglio giusto capire Se mi fa la special Alla fine Bestiamatando Devo fare per forza St'adornazione Ok Allora Facciamo così Le mie sette orb Golosissime Guarda che sto caricando il Dokkan Non è goloso il Dokkan Ragazzi Assolutamente Che prende un pugno Su Goku SuperSan 3 Salutiamo La capolista Se ne va Gli cevo Era la pacca sul culo Sì sì E ti hanno fatto pure un piacere Che 27 va Arriveremo Pani Arriveremo Appena Non avremo un cazzo da fare Se un accanto Formato freeplay Lo vendi anche a 10 euro Non è che No vabbè ma Se c'hai solo l'estolo Non vendi nulla Se c'hai i pg all'interno Dipende dai pg che hai Ma Non te pensate farti miliardi Dai Broly amico culo Lo so che puoi grittare Anche non trasformato Io credo in te Ci puoi vicaricare Sì sì Ma tu forma Tipo tutti i materiali Metti il 10 per Vedi i materiali Per fare l'ultima nave Trova c'erli già farmati Io entro Sì Pulito C'è che ricaricendo Sto per unificazione Già per globo Come hanno fatto Su One Piece Treasure Cruise Oh Sicuramente Ci sarà una celebrazione Apposita Per l'unificazione Oltre a eventuali KK Ok devo Shottarlo Il turno Dopo Così c'ho il dock Ma vedi il beast Grande Coco Mio fratello supremo Se ne va il domain Ma è ora Siamo più forti di prima Allora Questa è una donazione Molto importante Tu dici perché 734.000 def Non male Io faccio così Tu dici Metti Broly a ruotare Oddio Fammi vedere un attimo Una cosa Che non mi ricordo Questa Una volta che finito il domain Di solito La mente era finito Ok Se attivo l'altro domain Mi si riattivo Ok Vabbè lo devo tenere in turnazione Broly a ruotare Metto Goku Piedini a ruotare Ok Con il domain C'ha la riduzione del danno Ok Io questo volevo sapere Madonna Se mi avesse fatto spare Mi avesse beccato Diravo bestimi Fino a domani Per unificazione Ancola Servono un botto di stone Ma dipende Probabilmente per l'unificazione Faranno Senza pull Dai Danno solo stone Per volerci bene Qualpite lo stanno mettendo Solo per i pg di merda Valedetti Eh perché Con mille stone E nel tramite Tenesci col personaggio Tipo un moco ribriano Vabbè Guarda lo conceda fiero Ah Ti spara il mio cannone supremo Ok ragazzi Se sopravviamo sto turno Ti prego Ho le sette orb Zitto Zitto frate Zitto Se lo faccio a primo try Esco il cazzo Esco il cazzo Eh Probabilmente che Gambist Mi fa un po' male Però c'ho Broly postcard Allora aspetta Fammi Chill 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 Tiro il Dokkan però Cazzo lo tiro con Broly di fisico Facciamo così Ah non voglio rischiare Non fa niente che il Dokkan Vabbè Se Broly e Cinegrittano Però comunque è un signor Dokkan Non vorrei dire Però zi Sta turnazione Se Broly Si incazza Non hai proprio idea Che succede Devo solo sperare che Bestemmio ma non troppo Mi dispiace di Reddokkan Con Broly e Cinegrittano Con Broly e GL Primo Era GG Qua E Fammi prendere il telefono Vedi vedi l'infame Vedi l'infame Ok io ora spero Riesca a tankare Broly Oh lo shotta poi Eh se lo shotta meglio ancora Oh è partito il Dokkan Madonna Era un fulmine Grittate Gli togliete due barre vite almeno Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ragazzi siamo tutti qui per vedere Brule e gele sfondare il buco del culo a beast Sì però non crittano Che schifo Brule e gele 2.0 Dagli bruni Dagli bruni Dagli Fagli vedere che pure se non l'abbiamo culato Comunque gli rompiamo il buco del culo Sì Sì Ha ha Beast merda Vai vai buttalo giù Sì cattivo bruni Cattivo Vaffanculo Pezzo di merda non ti pullo più Gambist del cazzo Sei nulla in confronto a bruni Sei nulla cosmico Sei nulla cosmico Tie tie combist merda Vaffanculo te che non mi vuoi uscire bastardo Verrai bullizzato dalla vita Guardalo Convinto Convinto Ci stava credendo pure Il bastardo Guardalo che faccia Voleva rimanere con uno Devina Pezzo di merda Implodi Ah godo Al primo try Sto vedendo a caso Sì ma ma che faccio durante la stream Eh vabbè ragazzi ci guardiamo in faccia Sto in piacere